Il vino è un prodotto pregiato che ha un determinato valore economico nella nostra economia, in particolare nella nostra economia meridionale, l'economia agricola. I vini vengono identificati con marchi di produzione e quindi il produttore nel momento in cui si presenta sul mercato con un marchio, comunica al consumatore la qualità del proprio prodotto e di comunicare proprio il territorio. I nostri vini sono frutto della storia della viticoltura dei vitigni che sono stati impiantati, importati nella nostra regione. La Campania è un serbatoio praticamente di questi vitigni, l'etichettatura corretta e la commercializzazione corretta di quelle produzioni. Quindi il consumatore per comprare una bottiglia etichettata compre un territorio, perché dietro al nome di un vino c'è un territorio, c'è un paesaggio, ci sono dei suoni, ci sono delle tecniche di coltivazione precise, quindi un vino di qualità parla di un territorio.